Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è a Viterbo per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Tuscia. Tra i temi toccati, quello dell'attenzione all'ambiente, ci colleghiamo con Rita Capallo in diretta. Sì, buongiorno. Questa di Viterbo è un'università in cui lo studio delle scienze agrarie, biologiche, ambientali e del territorio è fondamentale. Naturalmente questo è stato l'occasione perché il Capo dello Stato nel suo breve saluto che ha preceduto l'inaugurazione dell'anno accademico tornasse appunto su un tema che gli sta molto a cuore e cioè la tutela del territorio. Abbiamo molte sfide davanti, ha detto Mattarella, quella però dei mutamenti climatici, affrontarne le conseguenze e prevenirne con una politica lungimirante e internazionale conseguenze ancora più drammatiche è naturalmente una delle sfide più importanti a cui dobbiamo dare risposta. Dunque, mutamenti climatici, tutela del territorio, del nostro paesaggio, è una priorità questa, ha detto Mattarella per l'Italia sia per salvaguardare la nostra bellezza naturale ma anche dal punto di vista economico. E poi è ricordato come naturalmente molte delle tragedie naturali che recentemente si sono abbattute sul nostro territorio siano causate o le loro conseguenze siano acuite da una scarsa attenzione al nostro territorio. Mattarella ricordiamo che qualche mese fa ha firmato un documento presentato dal Presidente dell'Austria e sottoscritto da altri Presidenti europei proprio che poneva al centro dell'impegno della politica europea l'attenzione all'ambiente e ha ricordato davanti a tanti studenti che è proprio Greta, la giovanissima studentessa che recentemente ha, diciamo, redarguito pesantemente la politica per la disattenzione sui temi ambientali e proprio da una studentessa e dai giovani che viene la voce alla politica perché ponga al centro un tema che è molto caro alle nuove generazioni. Per il momento è tutto da Viterbo.